Alle 7 di questa mattina sono partite per l'ultima volta le procedure di sgombero da parte degli agenti del commissariato insieme alla polizia locale di Fano nelle sale interne all'ex convitto Vittoria Colonna in via Montegrappa. Questo perché proprio in queste ore una ditta specializzata è al lavoro per bonificare l'intera area oggetto negli ultimi periodi di bivacchi e incursioni abusive. Una situazione diventata insostenibile e più volte segnalata all'amministrazione comunale dai cittadini che abitano nei pressi della struttura. Devo anche ringraziare la prefettura che è stata sempre in prima linea, ha fatto anche da interlocutore, abbiamo fatto in modo di anticipare anche i lavori già programmati di intervento per metterlo in sicurezza per una questione di decoro, una questione anche di igiene. Oggi ci siamo, la ditta è già arrivata e alle mie spalle ha iniziato a lavorare, ovviamente è un lavoro che non si concluderà in pochi giorni perché è un intervento di sgombero interno di tutte le cose che ci sono, di sanificazione e di sigillazione delle finestre del primo piano per impedire che possono entrare con facilità come è avvenuto in passato, fra l'altro erano già sigillate ma con il compensato, ovviamente facilmente rimovibile. Quindi a oggi a tutti gli effetti gli operai della ditta dovranno montare anche le impalcature e si è avviato il lavoro dell'intervento vero. Poi ovviamente la cosa che a noi interessa non è soltanto questo, è anche la prospettiva di questo spazio importante che InVimit, che IMS ha inserito nel fondo InVimit proprio per valorizzarlo e farci degli investimenti importanti che ovviamente sono investimenti che riguarderanno in medio e lungo periodo. La struttura di proprietà di InVimit, investimenti immobiliari italiani, società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sarà oggetto di lavori per diverse settimane se non alcuni mesi visto la vastità della struttura composta da numerose stanze, sotterranei e giardini. Oltre alla bonifica e alla sanificazione tutti gli accessi saranno sigillati ad eccezione del portone principale. L'intervento di stamattina ha trovato sul posto due persone entrate abusivamente nell'immobile, una proprio all'interno dell'immobile e una nel giardino, in questo giardino. Va ricordato che gli interventi precedenti già da noi condotti hanno individuato all'inizio una decina o qualcosa del genere di occupanti abusivi e poi negli interventi successivi questo numero è andato diminuendo. Questa mattina l'operazione è seguita a un accordo con la proprietà diciamo data indicata anche da un'azione diciamo del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblico voluto dalla Prefetto che ha messo in piedi un'operazione finalmente congiunta tra forze dell'ordine e proprietà per poter creare le condizioni di sgombero e chiusura e bonifica di un immobile molto importante che impatta nell'immediato centro storico. Secondo noi oggi si scrive una pagina nuova di questo immobile che dovrebbe essere valorizzato e anche restituito alla pubblica comunità.